Dichiarato sano e rispettito nel mondo, diagnosi finale, borderline recuperato, che cosa voglio dire, non l'ho capito, se non è stato matto, forse sì, ma forse non dalla vita, la follia non è essere a pezzi o custodire lo scuro segreto, la follia, siete voi o io, amplificati, se avete mai detto una bugia e vi è piaciuto, sarete mai desiderato di restare bambini in eterno? Non erano perfetti, erano amici miei, negli anni settanta quasi tutti erano usciti e vivevano le loro vite, alcuni li ho rivisti, altri no mai più, ma non c'è un giorno in cui il mio cuore non li ritrovi.